ecco siamo proprio nel vivo dei lavori andiamo a vedere quando si toglie l'intonaco esistente qui c'era un intonaco di cemento e vedete come le tessiture murarie sono spesso molto diverse perché una volta usavano come in questo caso usavano pietra di tuffo per fare le riquadrature delle finestre e qui abbiamo mattone pieno qui abbiamo pezzi di coppi ecco tutta questa parte poi verrà messo un primo strato di intonaco di calce con un aggregato più grosso poi la stabilitura e poi la rasatura armata con una rete al suo interno in modo da consolidare tutta quanta la parete ecco vedete l'architrave è fatto con un misto di cemento e sassi ecco questo è quello che si vede quando la muratura è al vivo e si procede poi con l'intonacatura per ricostruire l'intonaco che era ammalorato di questo edificio